A pomeriggio 5 il buon Geri Cala va rassicurato a tutti a proposito del malore e dell'infarto che purtroppo di recente ero coinvolto, sta bene con di buona salute, salute è tornato nella sua amata città, la bella Veruna, dopo l'infarto che c'è stato la scorsa settimana a Napoli, la città, capoluogo della regione Campania, redattore e regista quindi, va rassicurato tutti, mi hanno salvato letteralmente la vita, avevo appena terminato di mangiare un pasto, mi trovavo in tv con me davanti al televisore, un dore molto forte ho percepito, non avevo mai sentito prima d'ora, sono dori freddi, dovevo fare effettivamente evalando qualcosa, ho chiamato quindi produttore di firma, e ha fatto arrivare un'ambulanza, allora l'ho fatto sapere che aveva mangiato troppo, loro mi hanno spiegato invece che erano infarti in corso, la clinica era molto vicina quindi, l'hanno portato in clinica, sono stato trasportato in urgenza in sala operatoria, ma anche lì non ho perso mai la mia perv, infatti i medici e i dottori che l'hanno assistito, ha detto un simpatico l'impitine, ok, perché sapevano che gli stavano salvando la vita, a Napoli mi ricordo che è impegnato nel set da regista, va bene, in quanto il regista di questa pellicola pregiata, vi ringrazio per l'ascolto, dunque questo sarebbe quanto, io ho tracciato in maniera molto sintetica, breve, ma lo spiego efficace quello che è il buono Gerica, la re beta, bambino 15, ciao da Nara Doviteriano, scusate la voce ha portato un posto a poco bene, noto al covid, questo video non vuole leggere la previa di Gerica, che saluto, ma soltanto informare eventuali persone, nasce sempre per questo motivo, non per altri motivi, ciao a tutti.